Ragazzi, benvenuti al secondo video dove guardiamo insieme le nuove moto. Siamo al secondo video della Ducati World Premier. Nel video precedente, che io non ho fatto, quindi parlo del video di YouTube, hanno presentato la nuova multistrada, di cui a me non frega un cazzo, ma della X di Avele e della Scrambler già ne possiamo discutere. Quindi ragazzi, benvenuti al secondo episodio del Ducati World Premier. Praticamente ragazzi, oggi siamo qui davanti alla nuova X di Avele e alla nuova Scrambler. La nuova X di Avele, scusate, sarà la 1260 Black Star, ma andiamo per gradi. Allora io devo ammettere una cosa ragazzi, ovviamente la Ducati è la punta di diamante. La Ducati è praticamente come la Ferrari, per l'Italia, per la moto. La Ferrari o comunque l'Alfa Romeo, va, no, direi la Ferrari. La Ducati è conosciuta in tutto il mondo, è comprata in tutto il mondo, ed è giusto così. È giusto così. Devo dire che quando uscì la Diavel, a me e ad alcuni miei amici, sia maschile che femmine, fece storcere il naso, perché, attenzione, sì, lo so, dovrei dividere fra Diavel e X di Avele. Per quanto mi riguarda l'X di Avele è ancora più brutta della Diavel, ma, attenzione, io amo tutte le motociclette. Io amo tutte le motociclette. Una motocicletta per farmi dire sei brutta, per farmi dire fai schifo, deve veramente essere oscena. Quindi devo dire che anche la Diavel e la X di Avele hanno il loro perché. Devo dire che questa nuova colorazione che gli hanno attribuito, quindi grigio metallizzato e rosso, che se non sbaglio in realtà è stata fatta anche per la vecchia Diavel, non è, non è male, non è male, anzi molto bellina. Ovviamente, ragazzi, sì, leggera come una Ducati un par de coglioni, perché 221 barra 23 kg è un bisonte, leggera come sto cazzo, sarei dire. Ho capito, hanno cambiato il terminale, quindi l'Euro 5 è quello a destra, quello rosso è quello nuovo. Quindi 160 cavalli. Bene, bene, vedo ragazzi che l'hanno resa tutta nero satinato. Non riesco a capire se hanno cambiato anche leggermente l'estetica, c'è la forma. Forse hanno accorciato leggermente il codone, però capite, il solo fatto che io veda nero satinato, io già esco pazzo. Non dico che mi piace molto, ma mi piace di più rispetto alla prima X di Avele, proprio quella del 2000, cose ragazzi, il 13, 14, tempi d'oro. Sì, vabbè, X di Avele Dark, come fecero per la Monster. in realtà è un legame storico come il nero pale, una storia ultra-regionale iniziata nel 1998 con i morti a 600 anni. E la tonno non potrebbe essere l'altrimento, il nero è il colore dell'eleganza e dell'essenzialità. Un non-colore che fa parte dalle superfici di stile e all'estorte della parte tecnica. E l'altro, insomma, la bellezza della morte. Il top of black, vale dire, il nero esteso anche alla meccanica, alle targhette, Si devo ammettere che mi piace pure la scritta Ducatinera Isabel Si va bene accorciamo Blackstar Ecco qua Isabel Blackstar Come il titolo dell'album di David Bowie del 2016 Che farlo hanno copiato Cazzo Isabel Blackstar L'istituzione della libreria e l'equipaggio netto Viene dal mondo delle auto sportive Questa è una moto raffinata Ma adatta a tecnologia Ecco perché abbiamo scelto colori e toni Nero e grido Sono colori raffinati Ma qui definati in chiave sportiva Il grande l'uomo di lupato e il portico Spagni di colore rigorosi Improciati in modo netto Riprendono il concetto della X Che caratterizza la famiglia ideale I coperti destra Rennitati di rosso Affirano un ruolo di motore E' il protagonismo di questa moto E sono chiaramente un premuto All'alucante I nuovi certi Portati interamente lavorati Sono l'esaltazione della leggerezza Leggerezza vera Un centimo risparmio di due tipi E leggerezza di prima Ho capito Te lo puoi cucire sul culo 70 possibili accessori O 70 configurazioni Mamma mia che nebbia Sì tutto molto bello E ora passiamo alla scrambler Perfetto Non ho capito ragazzi Forse hanno rifatto Cioè forse stanno aggiornando La prima scrambler Sì Sì credo proprio di sì Un motore da 803 Raffreddato ad aria Euro 5 Guidabile con l'A2 Ho capito Stanno praticamente Rinfrescando La gamma scrambler Ho capito Dove cazzo L'hanno girato Questo video In America 1100 Dark Pro Ehm Sparta l'ultima di marzo A 1100 Prodato Per il 2021 A Prodato Seversa Un anno di scelta Con guardate Tutti altri Quindi Finitura In allunità Stattolata Come per l'incontro Anche per i cori Sottosalba Con l'educazione Di serie Anche per i cori Anche per il traccio Di controllo Puoi scegliere Tra tre Anche per i modi Diversi Quindi ABS in curva Controllo di terzione Tre mappature Ducati Safety Pack Non so cosa sia Lo vediamo dopo I Brembo E le luci a led Ah e queste sono quelle più Aggressive da fuoristrada Cosa è una adresa sled? E ora dove ce ne andiamo? Presenta night shift Cioè turno di notte Lui finisce di lavorare E un gran fico Aveva la moto posteggiata Alla davanti Si torna a casa Yeah Oppure si va a cuccare Bisogna vedere Oppure si cucca A casa Questa musica Molto Drive Molto Ryan Gosling Dai è Roma Ma dove siamo qua? Era Roma o Dubai? Bello questo video Questo si che mi è piaciuto Cioè non che gli altri Non mi piacessero Ma questo è più Il mio stile cinematografico Guarda Potente Potente Ora però andiamo avanti Ah e lui sta fuori Fino all'alba Bellissimo Bello Mi è piaciuto questo video Dai Mi è piaciuto Ora si che la compro Flirt No USA Indicatori di direzione a led No USA Ah forse Non in America Ho capito Side number plate Vuol dire letteralmente Numero di targa Di lato Ma io lo vedo qua Sulla ruota Che vuol dire di lato Fatemi rivedere il video Scusatemi Perché plate No ragazzi Ho capito cosa vuol dire No 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 Ragazzi Che sono scemo Side number plate Vuol dire semplicemente Che puoi mettere Puoi applicare un numero Tipo sapete no Il numero di gara Per fare brodo Puoi applicare il numero Al lato della moto Un po' come la moto guzzi Beh ragazzi Come possiamo vedere La Blackstar Fondamentalmente Cambia la livrea E allora ragazzi X di Avel Dark 160 cavalli 20.000 euro 221 chili La S Che è diciamo Quella normale Non capisco Per quale motivo La S costi 24.300 euro E la Blackstar Che è magari La più carina La più particolare A 25.000 euro Sembrano fondamentalmente La stessa moto di prima Quindi ora vediamo Se hanno cambiato Solo la livrea No Se la chiamano Nuova X di Avel Dovrebbe essere nuova La nuova X di Avel Offre una posizione Di guida rilassata Bla 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 Su questa base Tante regolazioni possibili E ricco catalogo Di accessori Pacchetto elettronico All'avanguardia Contenuti tecnici Prestazioni elevate Manubrio largo Pedane avanzate Guida rilassata E confortevole Ad ogni velocità Su tutta la gamma X di Avel 2021 Abbiamo il testa stretta Da 1262 cm3 Un silenziatore ridisegnato Come diceva nel video Quindi Dei nuovi terminali Una nuova calibrazione motore Cioè Sarà vero O l'hanno scritto Solo per fare pomata In questo modo L'X di Avel Eroga 160 kg 160 cavalli A 9500 giri Con una coppia massima Già a 5000 giri Ho capito L'equipaggiamento di serie Sono queste le cose Che mi interessano di più L'equipaggiamento di serie Include Piattaforma inerziale Bosch Che praticamente sarebbe La CPU della moto Ho capito ABS in curva Ducati Traction Control Il Power Launch Impianto luci Full LED Sia sulla S Che sulla Blackstar Daytime Running Light Che cazzo è il Daytime Running Light? Ah ho capito Ho capito Sarebbero le luci adattive Ho capito Sì 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 Molto interessante Molto carino Specchietti in alluminio Ricavati dal pieno E il Ducati Multimedia System Quindi si suppone Che abbia il Bluetooth Che ci puoi collegare Il telefonino Eccetera Quindi super moto Tutta all'avanguardia La Dark La normale Che mi fa proprio orrore No comunque ragazzi Non sembra che l'abbiano cambiata esteticamente Sembra che sia diciamo Il vecchio modello Però leggermente aggiornato Abbiamo visto appunto i terminali E qualcosa di tecnologico migliore Possiamo vedere che I cerchioni della Dark Sono diversi dai cerchioni della S Che sono diversi dai cerchioni della Blackstar Vediamo che il terminale è cambiato E però certo la Blackstar è veramente veramente bella Anche se peso a secco 221 chili Quindi in ordine di marcia forse Accidenti In ordine di marcia Accidenti Beh Non è leggera ragazzi Non è leggera Equipaggiamento di sicurezza Riding mode Che suppongo siano le mappature Il power mode è un modo fico di dire Come ve lo posso spiegare ragazzi È il taglio dell'erogazione O dei cavalli Che puoi premere con un tasto L'avete presente? Non lo so Nelle vostre macchine per esempio Avete il Io non mi ricordo come si chiama ragazzi Ha un nome preciso Comunque Lo si usa durante l'inverno Sulla neve o sulla pioggia Per tagliare la potenza del veicolo Cosicché Dando un'eventuale accelerata Eviti di slittare Di evitare l'acqua planning Lo snow planning Il drifting Cioè La scivolata di culo Ragazzi La sdrucciolata Quindi sì Il power mode Praticamente ti permette Di togliere O mettere Potenza alla ruota posteriore Tutto qui Ha un nome preciso Il tasto nelle macchine Ma proprio non me lo ricordo ragazzi E vabbè Le altre cose le abbiamo lette Sospensioni irregolabili Ho capito Ho capito Beh allora ragazzi Parliamoci chiaro 160 cavalli Per 25.000 euro Non è la mia moto preferita Ecco Non Se avessi 25.000 euro Non mi comprerei una X Diável Mi comprerei un MV Agusta Se permettete O un'altra Ducati Però con questa colorazione Diciamo che Si fanno un pizzico per donare Cazzo ragazzi Pesi in ordine di marcia 247 chili Pazzarola Ovviamente la sella È 75 cm e mezzo Quindi anche per i più piccolini È una moto fattibile Davanti abbiamo ovviamente un Brembo Con ABS Cornering E dietro abbiamo un Brembo Con ABS Cornering Non ho capito di che marca Sembra un Hollins Ma non è stato specificato E la sospensione anteriore Non c'è A meno che io non sono diventato cieco Non c'è Non c'è Passiamo Passiamo alle altre novità Che sarebbero tutte le novità Della Scrambler La 1100 Dark Pro La Night Shift La nuova Desert Sled Ecco cosa aveva detto il tipo nel video Sled E la nuova Icon Che è quella normale Vi dico subito che la Night Shift È sicuramente l'introduzione più interessante È piccola Compatta Aggressiva Mi piacciono i piccoli terminalozzi Bassi Nero satinato Sembrano nero satinato Bene ragazzi Siccome il sito della Scrambler È estremamente confusionario È proprio fatto male quel sito Andiamoci da qua Ecco E apriamo direttamente Uno Due Tre E quattro E vaffanculo Non voglio che il video duri un'eternità Quindi Cominciamo ad accorciare Ecco perché non posso parlare di quattro moto Che hanno avuto un leggerissimo Riallestimento estetico Quindi cerchiamo di stringere un pochetto Perfetto ragazzi Allora vediamo Vediamo quali sono le migliorie Quali sono i cambi Quali sono 9.290 euro Illuminazione LED Premium Il Ducati Multimedia System Nuovi indicatori di marcia Il livello carburante Vabbè per i pepepepà ABS Cornering Bosch Giusto Giusto Nuovi cerchi Ergonomia migliorata Nuovo motore Nel senso nuove finiture Insomma Ragazzi Questo è praticamente un restyling Quello che chiameremo restyling L'hanno leggermente Resa più carina Giallo Arancione E rosso A 9.290 euro Possiamo andare avanti La Desert Sled Bella la foto La foto mi piace veramente A partire da 11.890 euro Nuova livrea Devo dire che è molto gradevole Illuminazione LED Premium Anche qui Parafango anteriore alto Parafango posteriore allungato Portatarga alto Sospensioni irregolabili Esce con le Pirelli Scorpion Rally ST Nuova sella Nuovo multimedia system del cazzo Quindi hanno rivoluzionato anche questo cruscotto Va bene va bene Un solo colore Un solo colore Dai non me la fai muovere a mano Devo dire ragazzi che è molto bella Devo dire che è molto bella Comprerei questa Al posto della Classic Della Icon Devo dire che è molto bella ragazzi Si fa guardare Si fa guardare Si Si Bianco Opaco Bianco ghiaccio Bianco nuvole Striscia rossa E Blu Mi piace molto ragazzi Mi piace molto Andiamo Prima alla 1100 Dark Pro Guarda com'è felice L'uomo d'affari di mezza età Che dice io c'ho i soldi E c'ho la moto E c'ho il completo blu Tecnologia avanzata Ride by wire Tre mappature E Ducati Traction control Ci mancherebbe altro Ci sono inserti realizzati in alluminio Per renderlo anche leggero Impianto frenante a Brembo Con ABS Cornering Fammi indovinare Della Bosch Qui non c'è scritto Ma sarà sicuramente Della Bosch Anche questo Brembo davanti E presumo Brembo dietro Il sistema ABS Ha un solo livello di intervento E non è disinseribile Ah e perché no Per carità io lo uso l'ABS E mi piace anche Ma capisco che È pur sempre bello Avere un'opzione Che puoi togliere Non che ci sia sempre Dotato di Daytime running light Cioè ragazzi L'illuminazione adattiva L'abbiamo letto prima Ah interessante Si impara sempre qualcosa di nuovo La X Che è all'interno Del gruppo ottico Credo di Sia è dentro Non è fuori Riprende La X Fatta col nastro Adesivo nero Che si metteva Negli anni 70 Proprio per proteggere Il gruppo ottico Dagli agenti esterni Ma pensa un po' Ovviamente Solo una colorazione E questa è la 1100 Dark Pro A 12.500 euro E andiamo a quella Che sicuramente Mi ha colpito Più di tutte La Scrambler Night Shift Urca A 11.000 euro Diciamo le cose come stanno 11.000 euro Allora Colore Colorazione unica Presumo Fammi vedere Sì Colorazione unica Grigio aviatore Sella piatta In stile Cafe Racer Confortevole Sia per il pilota Che per il passeggero Sono molto d'accordo Mi piace veramente tanto Questa sella E in rigatino E bello raffinatello Devo dire Manubrio dritto E specchietti Tondi alti Laterali Da cafe Racer Lucia LED Non so se anche lei Ha le luci adattive Però ormai è tutto LED ragazzi Cerchi a raggi E come avevo appunto Capito prima I portanumero Laterali Tipici Delle moto Da corsa Degli anni 60 e 70 Beh ragazzi Guardatela Guardatela che forte Guardatela Che forte Non credevo Che avrei mai fatto Un video di elogio Alla scrambler Perché devo dire Ragazzi Che le scrambler Non mi piacciono Non mi hanno colpito Molto Sì lo so Magari sono un pazzo Magari sono delle moto Che hanno venduto Tantissimo Ma devo dire Che da quando Le nuove scrambler Sono uscite Quindi non quelle vecchie Per carità Quelle nuove Non mi hanno fatto impazzire Ma Ho fatto cadere qua Batman Ma guardate Com'è aggressiva Questa night shift Guardate Tutto questo grigio E nero lucido Guardate che cattiva Mi piace tanto Il codone corto Con le freccette Laterali Tipo alieno Sembra proprio Il tripode Della guerra Dei mondi E ovviamente Per alleggerire Il culetto Il braccio Porta targa A partire Da 11.000 euro Andiamo alle specifiche Tecniche Perché questa Mi interessa Veramente Quindi motore a L Bicilindrico 803 73 cavalli Mi pare onesto Freni frontali Presumo doppio disco Non disco singolo Bosch Cornering IBS ABS Mentre dietro Abbiamo ovviamente Un disco Bosch Cornering ABS Dimensioni Abbiamo ragazzi 180 kg a secco E 196 con i pieni 196 kg con i pieni Beh sì sì Sarebbe stato carino Se fosse magari 193 Una moto così snella Dovrebbe tenersi Da 195 in giù Va mettiamola così Altezza sella 79 cm Standard equipment Ragazzi Leggiamo L'equipaggiamento Standard No ragazzi Il DRL Mi sa che anche lei Ha le luci adattive Compartimento sotto la sella Entrata USB Interessante Molto carino Beh ragazzi Sono colpito Dalla Night Shift È veramente Una moto bellina Devo dire Complimenti alla Ducati Stavolta devo dire Perché hanno preso Una moto che non mi piace Hanno preso una moto Che non mi piace Cioè la Scrambler E ne hanno tirato fuori Una tipologia Molto carina Cioè una Scrambler Veramente pensata Per la vita notturna Guardate che raffinatella Poi devo dire Che chiunque abbiano scelto Per fare le foto E i video È stato molto bravo Quindi devo dire Cosa ho tratto Da questo video ragazzi E cosa ne avete tratto voi Forse spero Cosa ne abbiamo tratto Ragazzi La X di Avele Con la nuova colorazione È gradevole Ma secondo me La vincitrice Di questo video E di questa seconda giornata Della Ducati World Premier È indubbiamente La Night Shift Veramente una bella 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 moto Bella moto Sa un pizzico Di moto Guzzi E un pizzico Di quella moto Che non mi sto a ricordare Ragazzi Quella di piccola cilindrata Che vedo ovunque in giro Che non è la Royal Enfield Ma è un'altra ancora Sì Mi ricordo un pochino Quella là Però Si chiama Ducati Quindi paghi la qualità Perché le Ducati Sono fatti a mano Certo paghi anche un po' il nome Va paghi anche il nome Lo sappiamo che paghi anche il nome Però è bella ragazzi È veramente bella Da Sicani è tutto Un bacetto ragazzi Io un comunista Lo ammazzo anche a gratis Per la carta verde di residenza Sarei anche risposto a sotterrarlo Grazie a tutti